bella ragazzi siamo arrivati sull'ultimo episodio della serie naufraghi siamo su un video extra ma ragazzi mamma e le risate non mancheranno ovviamente visto che è l'ultimo video spero che anche questo episodio arriverà a 30.000 mi piace ce la possiamo fare e consigliateci sotto nei commenti quale altra mappa volete vedere? pochettissimo condividete e bella bella a tutti ragazzi ben ritornati dal vostro jogger siamo ritornati sull'ultimo episodio extra della serie di naufraghi ragazzuoli siamo con steprin ciccio e anima ok intanto c'è steprin sta dando fuoco a tutto non è vero nego nego tutto sta bruciando l'isola completa nego si è incazzato per i pigmen esatto si è incazzato tantissimo praticamente ragazzi penso che questo qui è l'ultimo episodio extra ovviamente qui sotto nei commenti suggeridici la prossima serie che potete vedere tutti quanti insieme con noi quindi suggeridici una mappa molto strafica da fare mi raccomando se no vi partono tante botte in faccia quindi non so se rendo ok vabbè il video può finire qua a mo' di tutto mi sticciamo questa cazzo da isola ma basta dare fuoco pezzo di merda abbassa quella voce da stepnina perché sta dando fuoco a tutto ma no no ste no ste no mi sono appena fatto gli oggetti ma no che te vai al massimo c'è una spada senza anima è bruciata a morte guarda ecco ecco che mi è in culo la roba dell'anima no 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 si si brucia le pecore mi stavano sul cazzo fidati inizio della serie muori muori no l'arco lombale mi scomodi bruciato siiii vaffa culo hai che palle non vale aia dove c'è aia c'è gioia io farei una missione per andare a trovare oh ma che vuoi che vuoi è squilibrata come cosa spada contro braccio se te che le vede a stussicare e chi c'è regà mi sono fatto voglio morire come voglio io lasci morire come voglio io regà mi sono fatto se non posso dire che deciderla mia morte mi sono fatto un coso pieno di spade guarda Mirko il trono il trono di spade ce n'ho come faccio a dare ce n'ho 75 e basta non te le do più è uscito è uscito aspettiamolo qua no no aspetta no quante spade hai fatto facciamo trilioni di spade aspetta ti salvo aia te le ridò te le ridò no ecco sono mia fatti cazzo è che quante sono per terra ancora non mi avrete mai sono una cifra aspetta fammi aaaaa aaaaa è tu madre aaaaa aaaaa siiii e io scappo dai sono con te aia dammi picchiato si mi sto bendicando no i cifre aaaaa vivrò di funghi ragazzi vai 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 mi volevo uccidere no tu mi ucciderebbe mi stanno arrivando in due no via il santomarino vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua aspetta c'è mo c'è mori No Mi son castrato Mi son castrato Non vale C'avevo 70 milioni di spade Chi è che mi ha ucciso Ciccio no? Ma io che mi ha ucciso E' stato ucciso E' stato ucciso Ma stai scherzando? E' stato Ciccio E' t'ha tirato la freccia E' tolto la vita E la vado No no Datemi le spade Ce ne avevo 75 mila Andiamo 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 a picchiarla C'è stato sto cavallo Che c'aveva qualche problema A tutto fuoco laggiù Andiamo Dove dovevo andare? Adesso mi finite oltre Vai Ma dove andiamo? Eh non c'è una destinazione Non è importante la destinazione Ma il viaggio Ma dove state? E' in mezzo al mare proprio Ma in che direzione? We are singing in the sea We are singing in the sea Ma che stai a fare? Anima Anima si è messo Ma che stai a fare? Tan tan na na Tan na na Tan na na Anima Ma si è fatta la perla nera Si è fatta la perla nera direttamente Ma che non so? Ma non c'è tanta roba qui in giro I giocchi stiamo andando alla ricerca del nuovo mondo Ciccio Noi siamo la polizia Mettite la camera Noi andiamo a prendere i cosi Noi sto con il motoscafo Noi siamo in afro Che fa soli Porco due Sei sovannati Esatto Vabbè io faccio l'elicottero E ci chiedi a mare Ma è l'elicottero Il problema è che non c'è un cazzo Ma devo papà o bebê Si ci guarda sopra i tete Snorvai oh Si Tranquillo Ti guardare Tgo今回 Tranquillo Tu vai avanti dimmi se li trovi Si si arrivo arrivo Si Ma qua non c'è un cazzo An impressione Arriva a fare l'elicottero col pisello Capirai allora sai che l'elicottero E' il modellino Grazie Non mi fermerai mai Ho ben trovato Ho ben trovato Ha ben trovato la terra Vgli trasportami E' vero non lo ho dentro Vedi che c'è sa Ma' piena di roba Oddio VっThat last day Ma' è pieno di os Mi sono spiegati Ragazze che ti spingo ragazzi siamo arrivati a casa è finito l'episodio venite in alto sembra l'italia in alto dove? sembra l'italia venite a vedere ragazzi vabbè porco due pare più una navicella spaziale di Star Wars cazzo no l'italia ma lo vedi là in alto c'è il nord Italia poi diventa uno stivale che scende giù però non c'ha tutti i torti è vero quella è l'italia che dice Roma e la Sicilia e Sardegna vedi? con quante droghe guardate che bel tramonto sto facendo vedere i miei scritti tramonto luna tramonto luna alba guarda 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 è proprio un pezzo di una è mi butto è vero madonna ma tu sei amato e poi faccio il kamikaze mi faccio esplode guarda 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 anima anima vai fatti esplodere ti giuro ti sto guardando in diretta ragazzi aspetta vai 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 fatti esplodere fatti esplodere anima adesso oddio è vivo che te ridi ho trovato un'isola che spettacolo guarda io steppinico che la creative come curemo guarda i zombie mob no che figo lol che cosa c'è qui ma è tipo una le cose delle navicelle di Star Wars tipo quando fanno le lotte in mezzo ai canyon non tornare in superficie oddio no ho già capito come ha fatto il bastardo occhio non tornare in superficie mi mettete la creative come no che è sto casino come si torna in superficie dove sei ste? te trasportatemi no ste ma che cazzo hai fatto ste? occhio ragazzi non uscite mi prego non uscite orca merda tranquillo io sento solo cacciara ma non riesco a uscire mi sto schivando tutti sto uscendo le volte oddio aiuto madonna oddio apocalypse now sono morto no ritenete a spurtatemi stavo scherzando non voglio non voglio mettetevi in creative verso a curare ah sta schivando tutto e piole bravo si la fine del mondo addio aiuto mi è stata lasciata al centro non si faccia le merda agchia è l'uomo pipistrello è proprio bat ma quanti cazzo ne sta a metti madonna io corro col mantello è proprio bat vai ma cosa sono? ah io sto a mettere streghe vai si streghe di merda ma cosa sono questi questi aiutami ho paura vai streghe del cazzo no mi hai tolto della creative no no vabbè ragazzi che dire allora questo appuntamento extra dell'ultimo video della serie di naufraghi può finire qua ovviamente speriamo che vi sia piaciuta questa serie con steppi ciccio e anima che stanno intanto mettendo delle cose bruttissime qua ragazzi nei commenti fateci sapere quale mappa volete vedere ancora per fare una nuova serie sui nostri canali e niente spollice tantissimo tanti like e condivisioni commentate al prossimo appuntamento del vostro jogger e grazie ciccio steppi e anima bello ciao ragazzi bello i calamari si i calamari ora si fa una bella frittura qua